I dipendenti dell'Università del Salento potranno raggiungere l'ufficio col proprio animale domestico. A regalare questa opportunità è stato il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo che ha approvato all'unanimità il progetto Pet Working. Il progetto Pet Working a mio avviso ha un'importanza fondamentale per i dipendenti in quanto ha la possibilità di conciliare la vita e il lavoro. Nel senso che per chi ama gli animali il cane è come se fosse un figlio, pertanto lasciarlo a casa in tante ore di solitudine è per noi un cruccio. Cercare di conciliare questa modalità per noi è stata una svolta. Ci tengo a sottolineare che comunque il progetto è assolutamente normato, che comunque tutto avviene nel rispetto di una normativa molto serrata. Bisogna per esempio acquisire il consenso delle persone con cui si condividono gli spazi, rispettare delle norme di sicurezza, di igiene, attivare una polizza per danni recati contro terzi e sicuramente non arrecare alcun disturbo allo svolgimento delle attività lavorative, né per il proprietario né per gli altri. E comunque questo tipo di progetto ha portato il sorriso nei corridoi e credo che comunque abbia ristaurato nuovamente delle relazioni sociali che forse si erano un po' perse e che da prima del Covid non vedevamo più.